Salve a tutti ragazzi, questo inizio di una nuova serie. Scrivetemi nei commenti come chiamarla. Gli episodi usciranno di sabato e a volte di domenica. Iniziamo a prendere qualcosa dalle crafting, dalla crafting e dalla chest e iniziamo. Scrivetemi nei commenti come dove costruire la casa. Prendiamo un po' di legno. Mettete un like se volete il continuo della serie, se no non me la porto. Il crafting. Prendiamo un po' di pietra. Prendiamo un po' di legno. Scrivetemi nei commenti che squadra ti fate. Scrivetemelo eh. Andiamo a prendere del ferro che è il primo. L'ho visto un po' di ferro. Ecco ed ecco. se trovate questo mondo guardate sempre qua perché qua ci potrebbe essere sempre del ferro. iniziamo a prendere del ferro. Per questa notte mi farò un bunker sotto terra. prendiamo un po' di legno. le torce. E andiamo sotto terra. e andiamo a prendere del ferro. 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 facciamo la fornace. Grazie a tutti. Devo rischiare per prendere la lana che avevo messo nella crafting. Grazie a tutti. Letto e dormiamo. Letto e dormiamo. Non so come ho fatto a sopravvivere a fianco a un'esplosione. Prendiamo le ultime cose che sono rimaste. Buono questo. Buono. Ah, del carbone. Buono. Andiamo a riprenderci la roba. Buono. 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 Grazie a tutti. 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 Andiamo a prendere il ferro. Non ci basta. Allora devo fare senza acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di cibo. Andiamo un po'. E nei commenti. Iscrivetevi, scrivetemi. Dormiamo. ma...